Allora, questo è un video particolarmente difficile perché io amo Nintendo, amo i personaggi Nintendo ma per me... eh no. Questa Collector Edition di Zelda, del nuovo Zelda, ha lo stesso problema che hanno tutte le Collector Edition di Nintendo degli ultimi anni ovvero sono tutte fottutamente uguali. E non ditemi di no. Queste Collector sembrano davvero fatte con lo stampino perché se ci fate caso c'è sempre l'artbook, c'è sempre la steelbook c'è sempre o la cartolina o la spilletta e cose così ma non c'è mai quell'oggetto che ti fa dire ah cavolo, questa è una Collector Edition, come si deve, me la prendo perché ho questa cosa particolare. No, no. Inoltre questa Collector Edition costa 130 euro e quella vecchia di Breath of the Wild che in più aveva anche il gadget con la spada costava di meno al lancio costava tipo 100, 110, quindi con un oggetto in più costava meno. Mi dispiace, non ci siamo proprio secondo me. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra. Avreste preferito anche voi una statuetta all'interno della Collector Edition oppure la comprenete lo stesso? Fatemelo sapere nei commenti.